La vicenda degli interventi da mettere in campo per risolvere l'annoso problema dell'erosione della parte nord di Alba Adriatica sta creando delle spaccature tra le varie associazioni degli operatori albenzi, tanto che sono arrivate delle osservazioni distinte ma del tutto simili tra loro al servizio valutazioni ambientali della regione, relative all'opera da 2 milioni di euro, con l'intento di mettere in sicurezza la costa nord di Alba Adriatica da mareggiate ed erosione per qualche anno, con un corposo ripascimento e due pennelli insabbiati a protezione della nuova sabbia. Una parte degli operatori turistici albenzi infatti è d'accordo con quest'opera e sottolinea la necessità di strutture rigide e di contenimento, mentre l'altra vuole solo un ripascimento. Il problema della spiaggia ancora non viene risolto, questo è un problema molto grave perché siamo arrivando alla stagione turistica. Noi, dalla parte nord, ma anche gli albenzi, perché qua parliamo sempre di categorie, di associazioni, ma il popolo di Alba non è mai stato interpellato. Quindi sono sempre quelle solite persone che parlano, dicono, fanno e disfanno. Noi l'unica cosa che in questo momento convidiamo, speriamo, sulla regione Abruzzo, che porti avanti un programma, la spiaggia di alimentazione, ripascimenti grossi, sui loro tecnici e soprattutto sul loro sottosegretario Umberto D'Annuntis, che ha messo la faccia su questo progetto insieme a me e che si sta impegnando. Allora, io stamattina poi, la cosa che avvalora di più la mia tesi, che dico che da 30 anni non si è stato fatto niente, solamente tre ripascimenti, quindi sono stati fatti solamente quelle tre richieste, e stamattina ho la conferma leggendo il giornale, il centro, in cui elenga tutte le categorie. I presidenti di queste categorie, di queste associazioni, Baneatore, Alba, sono stati sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali, quindi vuol dire che se oggi ancora firmano questo sperpero di denaro pubblico mettendo solamente per un giorno, se va bene o se va male, o massimo una settimana la sabbia, perché poi con le mareggiate di più non dura, vuol dire che in questi anni hanno sperperato tutti i soldi che ci sono arrivati.